fratelli e sorelle vi riconosceranno se avrete amore gli uni per gli altri e il vangelo di oggi questa domenica la trentesima del tempo ordinario tratta dal ventiduesimo capitolo di matteo versetti 34 40 ci ricorda proprio la cosa più importante dell'insegnamento di gesù la cosa fondamentale amerai il signore tuo dio con il tuo prossimo come te stesso numerosi allora sono gli interrogativi che pone la legge e gli ebrei ne avevano fatto una presentazione minuziosa avevano frazionato la legge per cui soltanto i profeti e la lettura sapienziale saranno capaci di poter fare una sintesi di tutto questo l'originalità allora che gesù presente questo accostamento che ne fa gesù fra i due comandamenti principali che gli ebrei già conoscevano l'amore a dio l'amore al prossimo la semplificazione che gesù ne fa quindi supera la radicalizzazione perché l'uomo non viene posto più di fronte alla legge ma a dio stesso chi ama il prossimo e il secondo comandamento è importante quanto e come il prima ecco allora perché questa questo nuovo legame ci pone direttamente in rapporto con la volontà di dio dio è amore ma quest'amore è infuso nei nostri cuori per mezzo dello spirito santo non è un atto della nostra volontà del nostro pensiero della nostra buona volontà ma è dono dello spirito che noi dobbiamo continuamente invocare allora possiamo constatare attraverso l'insegnamento che gesù fa gli effetti di questo amore così in luca 7 42 di fronte alla peccatrice gesù dice che le sarà molto che sarà molto perdonato perché ha molto amato pietro ci ricorda 4 8 prima lettera di pietro che l'amore copre una moltitudine di peccati e giovanni 14 ci pone in questo rapporto della figliolanza divina chi mi ama sarà amato dal padre mio e anch'io lo amerò e infine prima giovanni 4 21 questo è il comandamento che abbiamo di lui chi ama dio ami anche il prossimo l'essere cristiano quindi deve essere in una proiettato in una totalità e deve essere un amore genuino che non va distinzioni non fa differenze non fa preferenze perché non possiamo amare dio e il nostro prossimo se noi abbiamo scisso questo comandamento secondo il nostro punto di vista umano secondo il nostro egoismo allora come ci insegna una certa letteratura tre sono le realtà temporali della vita cristiana il passato che va accolto nella fede il futuro che va proiettato nella speranza il presente che va vissuto nella carità è bella questa distinzione il passato lo dobbiamo accogliere con fede quanto è accaduto rileggere questa lettura sapiensale il futuro lo dobbiamo proiettare nella speranza perché la speranza è dio stesso naturalmente e il presente vissuto nella carità di fronte allora a questa esigenza capite che nessuno può accampare scuse nessuno tutti dobbiamo essere una manifestazione credibile concreta coerente di questo amore quando noi allora facciamo distinzioni distinguiamo secondo il nostro punto di vista secondo il nostro orgoglio e poi andiamo da una parte i buoni e cattivi dall'altra parte quelli che mi vogliono bene e dall'altra parte i nemici gli italiani e gli stranieri i poveri e ricchi le persone normali normali e le persone con disabilità che invece sono diversamente abili le persone cosiddette normali che magari vivono poi una doppia vita e che ha il coraggio di manifestare la sua sessualità così come dio gliel'ha donata allora ecco che la paura del signore ci aiuta a vivere con coerenza la nostra vita a credere innanzitutto noi nell'amore per poterlo poi sapere mettere in pratica in ogni momento della vita Dio è amore